CONOSCENSE DIVERSE Gli intendimenti scientifici si occuparono del particolare stato di coscienza chiamato trans, in cui cadevano quelli che erano chiamati medium e che adesso sono chiamati dalle guide strumenti. Già quelle trans sembravano ampliare di molto le conoscenze sulla vita a cui l'uomo era giunto fino allora. Come risultato di queste indagini ormai secolari si fa sempre più strada il concetto secondo cui non è possibile ritenere che un contatto con i piani superiori di esistenza possa comprendere da un lato lo sperimentatore distaccato e in atteggiamento di osservazione e dall'altro gli strumenti da osservare, come se si trattasse di semplici oggetti da scrutare. È così? Commento. È così? Perché la scienza, cioè la mente, non è giunta a spiegare la vera natura della trans. In attesa che vi giunga, i maestri immateriali che comunicano presso grandi cenacoli raccomandano di mantenere alta la sinergia del gruppo, cioè la comunione dei partecipanti, affinché il fenomeno possa esprimersi qualitativamente. Grazie. Grazie.